Il rio Laris Eccoci nel rio Laris, come di Keravanna, cosiddetto da noi. Purtroppo la piena non si fa arrivare alla cascata. E lui incirchiamo facendo questa esplorazione. Un luogo bellissimo. Siamo proprio nel pieno del fiume. E lui incirchiamo facendo questa esplorazione. E lui incirchiamo facendo questa esplorazione. E lui incirchiamo facendo questa esplorazione. E a lavare, e a lavare, scherisci l'acqua aiuta a lavare. E a lavare, e a lavare, scherisci l'acqua aiuta a lavare. E me lo voglio rì, a lavare, scherisci l'acqua aiuta a lavare. A lui incirchiamo, a lavare, scherisci l'acqua aiuta a lavare. E lui incirchiamo, a lavare, scherisci l'acqua aiuta a lavare. E lui incirchiamo, a lavare, scherisci il sei e scogliare. E lui incirchiamo. Un luogo bellissimo. E lui incirchiamo, a levare, scherisci attacchi di attrao. Il luogo bellissimo. E lui incirchiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.